Ecco, benvenuti, rifacciamo anche questa volta la lezione di mercoledì scorso in cui abbiamo imparato un po' a quelle che gli ha funzionato, come gestire il multimedia in particolare il multimedia di tipo visuale, quindi dei film, dei contenuti video praticamente visti qua in Second Life o in OpenSim in questo caso mi ha fatto in modo tale da spiegare la teoria di come queste cose possono funzionare con un viewer molto elementare come Imprudence, che è un viewer vecchio che supporta soltanto le cose che si potevano fare fino al 2009, circa 2009-2010 quindi la premessa è di avere tipo qua, vedete, un qualche cosa in cui far comparire effettivamente un video sopra Allora, prima di tutto dobbiamo capire il funzionamento delle parcelle il vostro terreno, quindi la vostra sim, vedete, è suddivisa in varie parcelle come fate per vedere queste parcelle? esiste la possibilità di vederle, quindi visualizza possiamo vedere i confini nelle proprietà, control alta, shift P e nel momento in cui sono abilitati questi confini vedete che dall'alto si vede che ci sono delle linee rosse qua che disegnano praticamente delle parcellizzazioni cioè praticamente questa parte è divisa dalle altre parti ed è praticamente stata chiamata multimedia nel vostro viewer, per conoscere le caratteristiche dell'appezzamento di terreno in cui siete è sufficiente cliccare qua sopra, in cima e vi comparirà un'informativa dove vi dirà le dimensioni in metri quadrati quando è stata fatta, da chi è posseduta quindi questa è posseduta dal gruppo Welcome Area e moltissime altre informazioni che adesso vedremo tra le cose importanti sono, cominciamo, il media il media vi fa vedere una texture di riferimento allora noi proviamo a prendere la texture che abbiamo messo sopra un oggetto qui abbiamo preso un oggetto e nella texture gli abbiamo messo questo Mahogany abbiamo messo Mahogany ma spesso si mette una texture speciale che è quella del multimedia quindi default media texture che è questa texture grigia questa texture la mettiamo anche quindi la scegliamo default media texture e la impostiamo come eccolo qua la impostiamo quindi default media texture la impostiamo come media su cui verranno fatte vedere i filmati a questo punto qua nel media possiamo inserire un contenuto web in questo caso abbiamo messo un video mettiamo un video questo di Backbunny ok abbiamo messo il video ci aspettiamo che questo video sia visibile e come vedete non lo è allora per farlo vedere effettivamente occorre abilitare il quindi fare il play qua sotto vedete che qui c'è un simbolo la cinepresina e poi c'è un play se noi facciamo play su questo simbolo vedete che adesso non si sente nel filmato ma si vede e si senterebbe anche magari aspettate un secondo vabbè comunque credetemi sulla parola si vede il filmatino che è questo qua cioè quindi Big Backbunny è un filmato che tutti quelli che hanno i viewer adesso lo pauso cioè lo stoppo ok quindi stoppandolo non lo sento più quindi in pratica riassumendo sono andato qua su sui media gli ho impostato un determinato con imposto un determinato media un file .mp4 che ho trovato su internet e poi l'ho associato a questa texture che è una texture adesso molto spesso perché si mette una texture qua perché volendo si mette una texture che dice appunto a chi entra nella sim guarda che devi premere il play qua giù per farlo vedere e dopodiché ci sono altre opzioni ad esempio si può dire far ripetere il video nel senso che il video verrà ripetuto anche quando finisce auto ridimensione permetterà di dunque vediamo un po' se lo mettiamo ma in questo caso si vedete che facendo l'auto ridimensione non succede un granché ma dovrebbe consentire di fare l'ampliamento se il video è troppo piccolo alle dimensioni del vostro schermo ora analogamente abbiamo anche la possibilità di mettere della musica vedete che qui c'è uno streaming audio che se io questo qui anche per abilitarlo occorre cliccare qua quindi cliccando su questo play se quello stream è valido ci farà sentire una musica ora magari ok dicevamo ci sono molte url da cui estrarre delle musiche alcune di queste sono raccolte sul web per rintracciarlo basta io ho cercato stream second life musica e ho ottenuto ad esempio questo sito qua metaverse dove ti dà un insieme di opzioni quindi qui ci sono descrizioni di quello che è si può prendere una musica ne ho preso una e poi andiamo sul nostro qui da noi andiamo sulle impostazioni dei media e gli mettiamo streaming questo qui e a questo punto facendo il play potrebbe sentire ecco eventualmente potete controllare il volume di questa musica oppure controllare poi i vari volumi che ci sono praticamente qui potete controllare la musica il media eccetera adesso possiamo anche mi sembra di aver abilitato anche l'audio da Edmondo quindi se noi facciamo il play questo dovreste sentire anche in teoria il aspettate facciamo stop rifacciamo il play ah si dobbiamo alzare il volume ecco vedete che sono due flussi audio e quindi possono essere interrotti o sentiti e quindi si ha questo effetto diciamo estremamente interessante ok ora lo stoppiamo ecco rifacciamo solo un ripilogo quindi di quello che occorre per fare la musica quindi io qui l'ho fatto vedere adesso questo non ve l'ho ancora detto quindi per prima di tutto dovete verificare di avere l'abilitazione dei media questo l'ho fatto premendo ctrl p e andando a vedere su audio e video quindi se faccio ctrl p e vado su audio e video qui togliamo questo vedete che qui ci sono le opzioni per ascoltare la musica o per guardare i video va da sé che se per caso voi non avete questa spunta non riuscite a sentire le varie cose quindi è opportuno che controlliate che questo sia a posto spuntato il fatto di avere multimedia introduce un pochino di lag ma comunque diciamo è così ovviamente appunto ctrl p dovete verificare che i volumi siano anche adeguati quindi il volume dei media che sia alto o adeguato e potete controllare anche tutti gli altri ad esempio qui vedete che c'è questo simbolo vuol dire che non è abilitato l'audio e questo sulla freccia indica che dovete guardare se volete guardare i video e poi abbiamo visto che dobbiamo premere fondamentalmente la freccina poi abbiamo visto che per impostare un video occorre andare praticamente sulle caratteristiche della parcella e la caratteristica della parcella è quello che abbiamo visto prima dove c'è il nome della parcella quindi adesso io ho chiamato multimedia ma la cosa fondamentale è vedere il gruppo a cui appartiene e il insomma che sia abilitato la possibilità per quel gruppo di cambiare il multimedia per vedere per vedere le parcelle ho detto prima che c'è la possibilità di visualizzare i confini della proprietà con ctrl alt shift p quindi se faccio ctrl alt shift p vedete che vanno via i confini e quindi si ha queste cose e qui abbiamo visto che ci sono tutte le varie opzioni per vedere delle cose ora qui volendo si può mettere abbiamo visto dei video ma potremmo anche mettere delle altre cose ad esempio se noi invece vogliamo mettere ad esempio un'immagine qua potremmo anche andare a cercare un'immagine su internet vediamo un po' se la troviamo quindi prendiamo una rosa per esempio anche questa non ce la fa vedere prendiamo queste rosa view image prendiamo copy image url e vediamo se riusciamo a far vedere anche questa rosa in come url rosa cinensis ok facendo in questo modo se noi facciamo il play vedete che dovrebbe aver capito con l'immagine facciamo il play vedete che qui è capito con l'immagine quindi facendo play viene fuori l'immagine e qui capite che possiamo fare l'auto ridimensione quindi deve fare tac e tac e vedete che abbiamo il ridimensionamento della rosa quindi torniamo alla rosa questa quindi possiamo quindi vedere già qua in anteprima come vedrebbe e poi vabbè adesso qui non c'è il concetto di ripetere il video e così via quindi voi potete far vedere anche senza Firestorm queste stesse cose qui dentro però per completezza vi faccio vedere adesso anche come verrebbe il tutto su Firestorm perché se qualcuno di voi ha singolarity o Firestorm ci avrà delle cose leggermente diverse ecco se entrate con Firestorm una cosa che vi consiglio è di selezionare la modalità Select Mode Phoenix Phoenix perché di default lui entra in modalità Firestorm o Hybrid che sono modalità nuove ma che io trovo un pochino scomode se non selezionate Phoenix poi vi fa uscire e rientrare comunque facendo così e poi rientrando dovreste entrare con l'interfaccia utente che è molto simile a quella di Imprudence che abbiamo visto prima ok eccoci entrati come vedete abbiamo più o meno delle cose simili quindi qui possiamo abilitare nuovo l'audio e se facciamo il play sulla cinepresina vedete che anche da questo da Firestorm possiamo vedere l'immaginina e se io sono abilitato ecco questo è il problema fondamentale cioè io posso anche cambiare senza bisogno di script senza bisogno di niente cambiare l'impostazione del multimedia quindi qui posso ad esempio dire che il mettere un altro un filmato mp4 e me lo cerco ad esempio cerchiamo mp4 samples quindi attenzione che non tutti ad esempio i video youtube non si possono vedere direttamente almeno con Imprudence 1.3 e qui abbiamo dei vari filmati .mp4 questo vedete che ho anche .mov diciamo sample source o move quindi anche i move in realtà sono adatti però proviamo a vedere se c'è proprio un link a un video testing samples che si chiama shrinkage ok quindi se clicchiamo qua sopra ci viene vedete che viene fuori un filmato adesso questo è un filmato di un gioco ma proviamo prendere un filmatino planet 2 questo vedete che qui è già interessante allora prendiamo questo filmatino di questo pianeta planet 2 facciamo copia del link address andiamo anche qua vedete che è leggermente diverso gli mettiamo questo mp4 facciamo ok a questo punto vedete che può impiegare un po' di tempo cioè diventa un po' grigio ma possiamo fare il play ecco qua può capitare che non si veda però ad esempio è più interessante che il filmato si vede per esempio bene su imprudence ma non su ma non su 5 star quindi questa modalità sembra essere un po' più friendly su imprudence vedete che abbiamo messo un filmato di un pianeta ora la lezione forse l'ho detto forse non l'ho detto è comunque importante la cosa importante è che abbiamo detto abbiamo detto che la parcella è assegnata a un gruppo vedete che qui c'è scritto che la parcella è stata assegnata a un gruppo nel gruppo ci sono una serie di ruoli e in particolare ci sono i ruoli delle persone che invitate ci sono gli proprietari che possono fare tutto e ci sono gli everyone che sono le personcine del gruppo che possono fare certe cose allora io ho dato come membro i ruoli ho dato la possibilità agli everyone cioè tutti la possibilità di vedete a un certo punto di fare il change music and media settings se io dico tolgo questo diritto e faccio applica allora a questo punto nel momento in cui arriva qualcuno del gruppo quindi ad esempio questo qui è member di welcome area e cerca di andare nei media e cerca di settare le proprietà non ce la fa ok quindi questo adesso poi magari può darsi che non sia attivo subito ci impieghi un attimo comunque il concetto è che i diritti quindi la possibilità di mettere i media dipendono dal fatto che o siate owner o che abbiate dato ai membri del gruppo quindi non basta ad esempio se io qui sono in un gruppo ma mi tolgo quindi faccio activate quindi mi tolgo l'intestazione del gruppo non sono più del gruppo quelcomarea nel momento in cui vado a cercare di cambiare i media vedete che non me lo lascia più fare quindi ed è esattamente lo stesso motivo per cui eventualmente non posso creare qualcosa qua perché c'è la possibilità adesso qui in realtà me lo fa creare perché l'altra volta per semplicità avevo detto che dentro il gruppo opzioni ah no tutti quelli del gruppo possono creare va bene ma comunque il tutto il concetto è questo ora alla lezione abbiamo visto che alcuni di voi non riuscivano a vedere il video e questo abbiamo visto che potrebbero esserci problemi con Firestorm perché Firestorm non so bene perché potrebbe non essere compatibile questo lo vedete nel caso una cosa che potete fare è quella di installarvi QuickTime l'ultima versione di QuickTime che dovrebbe aiutare quindi QuickTime Download questo perché quel meccanismo che avete visto funziona grazie a QuickTime quindi andate su QuickTime e fate il download dell'ultima versione e la installate e poi vedete se funziona quindi ho fatto nel mio meglio per spiegarvi come riuscire a fare dei filmati con con Imprudence abbiamo visto una cosa ancora prima di lasciarvi se voi avete per caso più di un filmato da far vedere l'unica possibilità è quella di spezzare la parcella in sotto parcelle e questo eventualmente lo vediamo meglio la volta prossima in cui vedremo come far vedere anche più di un video per volta sulla stessa land e vedremo anche proprio l'uso di un uno script ad esempio questo uno script che permette di poter far vedere delle un qualche cosa anche se in questo caso adesso non funziona quindi lo metterò a posto quindi ci vediamo mercoledì prossimo per vedere altre cose sullo scripting e sullo streaming multimedia con Imprudence ah vi ricordo soltanto che se per caso invece non siete limitati a usare Firestorm la cosa ideale è invece usare il media onoprim che ho spiegato in alcune mie lezioni in ottobre e quindi questo è molto più semplice funziona avendo Firestorm senza troppi problemi senza dover installare cose particolari al limite l'unica cosa per vedere filmati youtube o altre cose potreste dover installare flash ma questo è già un pochino più normale insomma sono cose più recenti che hanno bisogno di questi programmini allora è tutto vi ringrazio ci sentiamo la prossima settimana